ciao a tutti ciao a tutti parte la diretta iniziamo con i soliti saluti scusate se non l'ho preannunciata ma non avevo certezza non avevo certezza sull'uscita della lista dei ministri e vedo subito i primi commenti di alcuni amici Annalisa Urzi, Carlo Pizzianti Peppe Papa Annalisa, Carlo, Pietro Romano sono tutti scontenti anche io bisogna essere onesti intellettualmente e dire quel che si pensa sempre non sono soddisfatto di questa lista dei ministri proposta dal presidente Draghi non è andata come avrei voluto come penso che molti di noi avremmo voluto adesso aspettiamo qualche minuto salutiamo saluto Mary Simona Pulvirenti ciao Simona la nostra consigliera comunale Giuseppina Attardo che dice che è furiosa Alessia Provato tanti attivisti che mi stanno scrivendo anche in privato adesso non posso controllare Whatsapp Antonella Mariconda tanti di voi che sono arrabbiati anche io lo sono ragazzi sì dobbiamo essere sempre onesti perché la prerogativa del movimento è quella di non avere paura della verità di non nasconderci nulla vedo Maria Fiorella Longo peraltro che aveva votato convintamente per il sì mi dice ma che cos'è questo schifo allora ragazzi dobbiamo essere onesti non va bene non va bene non va bene non va bene perché per due motivi fondamentalmente iniziamo dall'inizio abbiamo allora io capisco perfettamente che molti di voi diranno ma saranno arrabbiati perché c'è Brunetta perché c'è la Gelmini e perché c'è la Carfagna io sono sincero non sono arrabbiato per questo perché quando si accetta di far parte di un governo dove fra le forze che lo compongono c'è anche Forza Italia io non mi stupisco che Forza Italia scelga uomini suoi Gelmini Brunetta e Carfagna sono tipici esponenti Forza Italia forse sono un po' meglio di qualcun altro non mi risulta che siano stati condannati in forma definitiva come altri di Forza Italia però non mi piacciono politicamente li ho sempre avversati li avverserò sempre ma non mi stupisce che Forza Italia una volta che si accetta di andare scelga i suoi ministri questo capisco che fa arrabbiare qualcuno ma fa parte delle cose quello che non non va bene scusatemi parlaci tu rispondi di che sto facendo la diretta quello che non va bene non è Brunetta non è la Gelmini questo almeno per quel che riguarda me io sto parlando di quello che penso ragazzi cerchiamo di fare un dibattito razionale anche se siamo tutti un po' arrabbiati io sto parlando di quel che penso io e quello che penso io naturalmente è negativo ma quello che penso io non è lo stupore sinceramente per un Brunetta per una Gelmini per una Carfagna perché sono esponenti di Forza Italia e una volta che Forza Italia sceglie i suoi ci sta che scelga questi tre signori insomma che non mi piacciono politicamente come non mi è mai piaciuta politicamente Forza Italia se si fa un governo diciamo con tutti dentro tra tecnico e politico penso che Forza Italia debba scegliere chi vuole perché io ragiono così perlomeno non sono dei pregiudicati almeno non mi risulto invece dove se sto sbagliando correggetemi sono un po' stordito vi dico la verità perché sono un po' stordito sono molto dispiaciuto del fatto che il movimento abbia solo un ministro in più rispetto a PD Lega e Forza Italia e che abbia pochi ministeri di peso questo non mi piace abbiamo perso Nunzia Catalfo e Alfonso Bonafede anche Lucia Zolina anche altri bravi ministri ma quando dico Nunzia Catalfo e Alfonso Bonafede penso a due secondo me che hanno lavorato benissimo ministro del lavoro Nunzia Catalfo oltre a essere catanese è la madre del reddito di cittadinanza la persona che lo ha di fatto scritto che in questi mesi di pandemia si è confrontata con le difficoltà del mondo del lavoro con molto coraggio lavorando veramente 15 ore al giorno ascoltando tutti faticando chiudendosi il ministero come se fosse una trincea Nunzia io la voglio ringraziare pubblicamente in diretta perché ha dimostrato l'attaccamento non soltanto al proprio ruolo ma all'Italia ai lavoratori italiani alla dignità dei lavoratori italiani e non solo dei lavoratori anche di chi ha perduto il lavoro chi non riesce a trovarlo essendo stata proprio lei quella che ha immaginato fisicamente concretamente il reddito di cittadinanza da senatrice e Nunzia ha dimostrato anche l'attaccamento ai colori del movimento diciamo così come aveva fatto in passato anche Danilo Toninelli da ministro delle infrastrutture e dei trasporti perdere una ministra come Nunzia Catalfo signori non posso che essere molto 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 contrariato stiamo parlando anche di una siciliana di una catanese come me e un'altra delle cose che mi salta immediatamente all'occhio è la disposizione geografica di questi ministri abbiamo molti ministri lombardi sono preoccupato per il sud perché il Mise è nelle mani di Giorgetti e Giorgetti come sapete è un esponente della Lega è molto capace probabilmente il miglior esponente che abbia la Lega per carità ma Giorgetti è uno del nord e a me dispiace che la Sicilia che ha dato tanti voti al movimento e ha dato tanta forza al movimento ha eletto tanti deputati tanti senatori oggi possa non vedere i propri ministri quando aveva Nunzia Catalfo quando aveva per il ministero del sud Peppe Provenzano del Partito Democratico però è una persona che secondo me ha lavorato molto bene e poi avevamo anche altri tre elementi come Movimento 5 Stelle siciliani cioè il viceministro Cancelleri e i sottosegretari Villa Rosa e Steni di Piazza e soprattutto come ho detto prima la ministra Nunzia Catalfo avere perduto come Sicilia questa rappresentanza per adesso è molto grave mi auguro che la squadra dei viceministri e dei sottosegretari sia fatta in maniera adeguata per quel che riguarda le competenze e anche per quel che riguarda la tutela di chi ha portato in Parlamento 50 parlamentari cioè un sesto dell'intera truppa grillina e parlo proprio della Sicilia attenzione perché un altro ministero che per me è dolorosissimo avere perduto le due ragioni che più mi mi hanno fatto storcere il naso per non dire altro sono state il ministro del lavoro e il ministero della giustizia Alfonso Bonafede che aveva lavorato molto bene e che andiamo a perdere non avremo più il ministro della giustizia Bonafede il papà se preferite della legge spazzacorrotti della riforma della prescrizione della riforma della legge sulle intercettazioni una persona che ha lavorato molto bene e che per questo è stata contestata moltissimo allora andiamo a vedere come sono andate le cose vorrei ragionare con voi perché molti dicono eh ma dovevate saperlo allora ragazzi parliamoci chiaro tutto quello che è successo adesso è dovuto al fatto che è caduto il governo Conte 2 io vi faccio un conto proprio della serva il governo Conte 2 è caduto perché Italia Viva ha tolto il suo sostegno e nel frattempo questo partito che non era presente alle elezioni aveva 18 senatori però è caduto alla fine per 4-5 voti mancavano circa 4-5 voti di senatori e se non avesse tradito nessuno nel Movimento 5 Stelle se i senatori che hanno tradito del Movimento 5 Stelle fossero rimasti fedeli a loro a chi li ha votati anche perché non ci sono i voti di preferenza quindi i senatori e i deputati del 5 Stelle sono stati eletti grazie a una croce sul simbolo del Movimento se non avessero tradito se non fossero andati altrove il governo avrebbe retto il governo Draghi il governo Conte chiedo scusa perché chiaramente siamo stati molto indeboliti dai traditori che sono andati in altri partiti o che hanno fondato i loro partiti come Gianluigi Paragone che ha fondato Italia Exit quindi è lì l'inizio dei nostri problemi e quindi dobbiamo con molta onestà capire perché è successo questo e come mai il Movimento non è riuscito a mantenere tutti i suoi deputati e senatori perché lì se noi avessimo mantenuto in pieno la forza vi ricordo che abbiamo eletto 339 parlamentari e adesso ci sono ridotti a circa 280 poco più abbiamo perduto circa 60 parlamentari cioè uno su cinque circa uno su sei uno su cinque uno su sei quindi abbiamo avuto una vera e propria diaspora tanti traditori tanti traditori che sono rimasti in Parlamento tranne uno il deputato Mura velista che con almeno lui ha deciso di mettersi da parlamentare tutti gli altri sono rimasti in Parlamento e molti di loro non tutti ma molti di loro hanno votato contro il governo Conte questo è l'inizio delle nostre sventure e su questo dobbiamo riflettere ragazzi se no non andiamo da nessuna parte perché se noi avessimo mantenuto il nostro numero parlamentare noi avremmo serenamente potuto ovviare anche alle bizze di Matteo Renzi e probabilmente Renzi non le avrebbe fatte perché Renzi le ha fatte in quanto era decisivo e allora si è permesso di far cadere quel governo ha giocato d'azzardo sulla nostra pelle e ha vinto quella partita attenzione non la guerra però quella battaglia l'ha vinta dobbiamo essere dobbiamo riconoscere per me è una battaglia schifosa condotta sulla pelle degli italiani però alla fine i numeri non ci sono stati quindi lui come dire ha avuto la meglio su Conte e questo è molto triste perché Conte era una persona è un personaggio che preferivo tanto tanto a Draghi con tutto il rispetto che ho per Draghi andremo a vedere cosa succederà l'altra ragione per cui sono perplesso per non dire deluso è il famoso super ministero di cui ha parlato Beppe Grillo che abbiamo messo anche nel nel voto su Rousseau io ho votato su Rousseau ragazzi e dopo essermi confrontato con voi ero molto indeciso inizialmente ero più per il no ho parlato con molti di voi ho parlato naturalmente in Europa ricordo a tutti che io sono eurodeputato qualcuno mi scrive traditore no ragazzi come che sia io come dire ho detto la mia come è giusto che facessi ma vi ricordo che io sono eurodeputato quindi qualcuno mi dice non votare la fiducia a Draghi non la posso votare né sì né no io non la voto la fiducia a Draghi perché sono eurodeputato però da eurodeputato ho lavorato insieme ai nostri ministri nello scorso governo al ministro Patonelli alla sottosegretaria Gea alla sottosegretaria Todde al ministro Amendola e sinceramente sinceramente quando ho letto di quel super ministero di cui ha parlato Beppe come dire mi aspettavo che questo super ministero ci fosse e mi aspetto ancora che questo super ministero ci sia perché quello che ha detto il presidente Draghi non mi sembra proprio quello che abbiamo votato cioè noi dobbiamo avere quello che ci ha chiesto che ci ha promesso Beppe è chiaro? noi dobbiamo avere quello che ci ha promesso Beppe perché noi abbiamo votato per quella roba là allora dobbiamo essere corretti se noi abbiamo votato per quel super ministero della transizione ecologica che deve avere quei poteri io lo voglio quel ministero là il tecnico diciamo è un tecnico di area è un tecnico molto vicino al movimento ma il problema non è la persona pare sia molto bravo ma io sospendo i giudizi sulle persone che non conosco se lo conoscessi bene vi direi il mio giudizio pare che abbia un ottimo curriculum quindi per carità però i poteri che ha quel ministero noi ci sono stati promessi ragazzi e allora io dico come mai in queste trattative noi non riusciamo a ottenere quanto ci spetterebbe certamente la cosa più cretina da fare e più sbagliata da fare ve lo dico subito e dividerci e litigare e dire ah ve l'avevamo detto ah ma perché avete votato sì ma perché avete votato no allora ragazzi io penso una cosa che se avessimo votato no tutti i ministri ci avrebbero fatto schifo si sarebbe fatto un governo dove non c'era Patonelli dove non c'era Di Maio dove non c'era Ladone dove non c'era Dincà dove magari non c'era neanche Cingolani si sarebbe fatto un governo dove c'erano solo personaggi come Brunetta Gelmini Carfagna e magari anche Renzi avrebbe avuto più ministeri avrebbe messo i personaggi che ci piacciono meno in assoluto quindi non credo che il problema sia stato votare sì o votare no poi per carità se avesse vi ricordo sempre che se avesse vinto il no io avrei sostenuto l'assoluta necessità e obbligo di non votare la fiducia e io comprendo benissimo le ragioni di chi vota no non comprendo chi non accetta a un risultato democratico perché è stato un risultato democratico e tutte le volte che abbiamo votato su Rousseau e io ho perso ho rispettato quel voto e ce ne sono state tante non ultima quella delle capolista alla alle europee sinceramente in Sicilia io con tutti quelli con cui parlavo erano tutti per il no e poi ha vinto Sicilia e Sardegna pure e poi ha vinto il sì e noi abbiamo rispettato quel voto non mi avete sentito dire mezza parola anzi anzi ho fatto una campagna elettorale nel pieno rispetto delle regole perché credo che bisogna pensare al bene del movimento non al bene dei propri cavoletti per intenderci e sono rimasto con il movimento e rimarrò sempre con il movimento finché il movimento esisterà perché ho preso i voti del movimento oltre che i voti di preferenza però attenzione ragazzi noi a queste trattative non possiamo uscire così cioè io adesso spero che la squadra dei viceministri dei sottosegretari sia di un certo tipo che sia tutta politica e che ci sia una grande rappresentanza dei 5 Stelle perché Sileri Sileri che è stato un bravissimo viceministro Sileri della sanità della salute io magari l'avrei voluto ministro vi dico la verità io speravo anche perché è un tecnico perché è un medico è un medico molto bravo è un chirurgo è un professore dell'università io avrei voluto magari una promozione per un viceministro come Sileri che poteva diventare ministro con tutto il rispetto che ho per Roberto Speranza che è una persona per bene è stata secondo me un bravo ministro però ecco se bisognava cambiare tutta la squadra io mi aspettavo qualche promozione non mi aspettavo di perdere Bonafede, Catalfo e Azzolina in cambio di cose ora dobbiamo essere molto chiari non potevamo pensare di riavere gli stessi ministri di prima perché in questo governo sono entrate altre due forze politiche la Lega e Forza Italia e in questo governo oltre a Calenda Bonino quelle sono debolezze politiche non sono forze politiche sono debolezze politiche però ci sono ma sono quattro invece la Lega e Forza Italia hanno una forte rappresentanza parlamentare però e in più ci sono i tecnici perché non abbiamo più conte non è un governo a guida 5 stelle come quello di Conte ma è un governo a guida tecnica voluto da Mattarella perché a causa dei tanti tradimenti noi non avevamo più i numeri per sostenere Conte e questo è stato un grande smacco però non posso negare e lo dico senza polemiche sempre con un intento unitario unitario non lasciamoci andare alla rabbia ragioniamo insieme io però non posso negare perché non sono un bugiardo che credo che quando si fanno queste trattative bisogna ottenere di più perché non possiamo essere trattati così lo dobbiamo ai nostri elettori lo dobbiamo ai nostri attivisti la gente che ha votato sì a partire da me a questo referendum su Rousseau a questa consultazione e sono stato tormentato fino al giorno prima se votare sì o no ve l'ho spiegato io sono trasparente non mento non invento cazzate ho detto all'inizio quello che pensavo ho detto no a un governo tecnico si è poi parlato di governo politico con dei tecnici allora ho detto vediamo poi si è deciso di votare su Rousseau io e Fabio Massimo Castaldo abbiamo chiesto il voto su Rousseau ve lo ricordo pubblicamente perché io non ho niente da nascondere e qualcuno non lo voleva il voto su Rousseau per me era necessario il voto su Rousseau senza polemiche ho detto per me bisogna votare su Rousseau lo ha detto Castaldo lo hanno detto anche altri ma perché abbiamo votato il Conte 1 e il Conte 2 non dovevamo votare il Draghi che è molto diciamo più distante da noi quindi per me era necessario votare su Rousseau ero orientato al no sinceramente l'intervento di Beppe mi ha e anche il confronto con molti di voi mi ha fatto cambiare idea sinceramente io sono contento che a gestire i 209 miliardi del Next Generation EU ci siano anche ci sia un governo dove ci saranno anche esponenti del Movimento 5 Stelle e mi auguro che al Mise avremo almeno un vice o un sottosegretario nostro meglio se due lo dico molto chiaramente perché noi avevamo il ministro Patonelli avevamo i due vice avevamo Alessandra Todde e Stefano Buffagni noi avevamo una squadra forte al Mise di tre uomini adesso il Mise perché dico che è importante il Mise perché il ministero dello sviluppo economico il recovery fund si basa su sostenibilità ambientale sviluppo economico futuro ripartenza tanti di quei soldi passeranno dal Mise ragazzi ve lo dico chiaro lo abbiamo perso ce l'ha Giorgetti beh almeno voglio vorrei almeno due dei nostri a come dire a verificare quello che succede con quei soldi a gestire insieme al ministro Giorgetti quei soldi e non parlo solo del Mise ripeto parlo del ministro del lavoro del ministro dell'istruzione e anche dell'università perdiamo Lucia Zolina mi dispiace anche ho parlato di Nunzia Catalf di Alfonso Buonafede ma mi dispiace anche molto per Lucia Zolina avevamo il ministro della sport insomma avevamo naturalmente più caselle ma non mi stupisce il numero quanto gli spostamenti la cosa buona è che Stefano Patonelli diventa ministro dell'agricoltura l'agricoltura è fondamentale per la nostra ripartenza andiamo a vedere anche quelle cose buone che ci sono ed è importantissimo che ci sia una persona valida per bene e competente come Stefano Patonelli anche di esperienza però ragazzi noi a queste trattative a queste a queste trattative dobbiamo fare pesare di più i nostri voti io mi auguro che nelle trattative per viceministri e sottosegretari pesino di più i nostri voti adesso però una cosa ve la devo dire ragazzi ora noi abbiamo due strade davanti una è quella di litigare come pazzi di dividerci e dire è morto tutto addio è finito tutto facciamo schifo ha vinto la mafia che bastardo chi ha votato sì maledetto Beppe che è andato lì e ci ha detto la cosa del ministro no questa è una via per morire la possiamo anche fare se qualcuno è contento perché si sfoga sulla tastiera dicendo che è tutto un disastro e dobbiamo morire e Beppe è uno stronzo e Vito pure Dio pure tutti siamo cattivi e brutti facciamolo invece secondo me è molto più opportuno stare uniti e rivendicare le cose che ci sono state promesse a partire da questo super ministero della transizione ecologica lo voglio vedere voglio vedere che poteri avrà voglio vedere chi saranno i vice i sottosegretari che tipo di lavoro farà quanti soldi gestirà parliamoci chiaro io queste cose le voglio vedere coi miei occhi perché ci sono state promesse quando abbiamo votato chiaro? e quindi prima cosa da vedere è questa seconda cosa da fare è non soltanto non disunirci non dividerci non litigare fra noi ma chi 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 ha un vantaggio se non litighiamo fra noi ce lo avrà Renzi ce lo avrà Berlusconi ce lo avrà Brunetta ce lo avrà la Lega ce lo avrà la Meloni cioè vogliamo capire che dividersi per una forza politica è il primo modo per contare meno e per lasciare via libera agli altri se noi ci andiamo a dividere adesso in un momento così critico siamo nei guai quindi faccio un appello non soltanto ai miei colleghi e portavoce ho visto Nicola Morra che ha scritto ma scusate sto super ministero dov'è? quello lo capisco Nicola hai ragione Nicola perché dico sto super ministero dobbiamo vedere perché noi abbiamo votato per quella cosa là quella è una critica sensata ma se incominciamo a dire traditori maledetti eccetera parlo con i miei amici con i miei colleghi portavoce ma parlo soprattutto con gli attivisti con gli iscritti se ci disumiamo adesso se ci sarà uno sfogo a qualcuno serve sfogarsi ogni tanto come quando si litiga con la propria moglie con la propria madre con la propria fidanzata fidanzato marito papà sorella quello che volete voi quando litighiamo con una persona a cui vogliamo bene ci sfoghiamo e così stiamo meglio però non otteniamo granché io comprendo la voglia di sfogarci parlo anche delle chat interne oggi ho visto alcuni nostri consiglieri comunali municipali fuibondi che hanno scritto cose molto molto dure in chat ho visto alcuni attivisti che hanno scritto cose molto dure in chat comprendo questa rabbia però adesso basta sfoghi vi prego cerchiamo di essere costruttivi cerchiamo di essere forti adesso per andare a contare di più almeno nella distribuzione di sottosegretari e viceministri in un primo tempo si pensava che tutti i ministri sarebbero stati tecnici e quindi il ruolo dei partiti sarebbe stato solo quello di sottosegretari e viceministri adesso abbiamo visto che non è così però mi auguro che fra sottosegretari e viceministri il grande peso parlamentare del Movimento 5 Stelle venga rispettato il grande peso della Sicilia lo dico serenamente deve essere rispettato non possiamo passare da 4 grillini nel governo Conte a 0 non possiamo anche perché erano 4 poi Alfonso Bonafede è stato Bonafede Di Stefano Crimi sono tutti eletti in altre zone d'Italia ma sono tutti di origine siciliana e sì sì adesso guarderò i messaggi scusate non ho guardato non sto guardando i vostri messaggi li ho tolti proprio mi dicono guarda i messaggi e rispondi adesso piano piano rispondo a tutti abbiate pazienza ma anche io ho delle cose da dire prima ancora di rispondere a voi e quindi io vorrei davvero che fossimo uniti ora più che mai e credo che la cosa più sbagliata da fare sia dividerci sia come al solito dire aveva ragione quello aveva torto se lo vogliamo fare se vi consola bene ma non otterremo niente di più otterremo qualcosa di meno ok allora adesso incominciamo a rispondere a dei messaggi bravo Antonio Gussio scrive una cosa molto giusta Antonio Gussio è un attivista siciliano scrive una buona pasta fatta con ottima farina ma condita con ragù avvelenato e mortale purtroppo sono d'accordo con Antonio Marco Lai se non rispondete duramente vi tratteranno da pezza da piedi con questi bisogna avere palle minacciate di uscire con questi caimani non si può essere così un genio caro Marco io come ti ho detto non ho fatto le trattative ma sono sinceramente deluso allora ma guarda che ora il 5 Stelle non conta più nulla scrive Claudio Maselli lo volete capire sia o no hanno accontentato Di Maio il resto fine quello che scrivono rappresenta rabbia o rancore ma solo constatare la realtà dei fatti come era prevedibile con questi quattro vecchi politici caro Claudio Maselli per carità insomma con molta onestà sto dicendo quello che anche tu dici che pensavamo e speravamo di contare molto di più però possiamo ancora contare molto nel momento in cui ci saranno non lo so quanti una cinquantina una sessantina di viceministri e sottosegretari se noi incominciamo lì ad essere deboli come siamo stati finora diciamo quello che tu scrivi purtroppo si avvererebbe con tutto il rispetto per i quattro ministri molto bravi che abbiamo ottenuto perché abbiamo comunque quattro ministri in questo governo però sinceramente sinceramente mi aspettavo di non perdere la giustizia di non perdere il ministero del lavoro perlomeno lo speravo Sebastiano De Tullio Dino ma cosa stai difendendo vi siete fatti inc puntini puntini are come dei pivelli ma lo sai che abbiamo il 33% come possiamo avere fiducia se adesso ci stai dicendo magari ci danno dei sottosegretari caro Sebastiano non sto dicendo non so se hai letto come si chiama questa diretta non sono contento cosa dobbiamo fare prendere a martellata il telefono oppure rimboccarci le maniche e capire cosa è successo e far sì che non accada più domani ragazzi io capisco benissimo la rabbia di tutti a parte il fatto che vi ripeto io non entro nelle trattative io non le faccio le trattative sono parlamentare europeo faccio delle trattative in Europa le ho fatte e sinceramente abbiamo ottenuto molto dall'Europa non era mai stata così l'Europa l'avevamo sempre contestata perché non era così quindi sinceramente di quello che abbiamo fatto in Europa sono contento ed ero molto contento di quello che hanno fatto il governo Conte 1 e il governo Conte 2 ve lo dico con molta onestà sinceramente non sono contento di come siano andate queste cose caro Sebastiano Di Tullio mi pare che si chiamasse e quindi non sto affatto dicendo che sono contento però sto dicendo che essere distruttivi non ci porta ad avere qualcosa in più parlare male di noi stessi e dire che siamo stronzi o venduti o deficienti non ci porta ad avere qualcosa di più sinceramente Annalisa Urzi scrive tutto grande Brunetta ecco Annalisa Raffaele Gennaro sentiamo cosa dice Dino il sud regalato alla Lega alla destra la peggior situazione per chi cominciava a vedere uno spiraglio sì Annalisa dice Brunetta tutto grande ma io Brunetta ripeto lo sceglie Forza Italia quindi non ho come dire più sorpresa una volta che dici Forza Italia chiunque avesse scelto è un esponente di Forza Italia quindi a me non piace a me quello che non mi fa piacere è che dovevamo e pensavo che avremmo ottenuto qualcosa di più in quei ministeri dove abbiamo fatto delle riforme fondamentali noi dobbiamo difendere le nostre riforme questo è il motivo per cui siamo entrati in questo governo lo vogliamo capire o no c'era scritto anche questo nel quesito difendere le riforme ottenute dal movimento quindi reddito di cittadinanza qual è il ministero? Ministero del lavoro porca miseria ok? spazza corrotti riforma delle intercettazioni riforma della prescrizione qual è il ministero? Ministero della giustizia ragazzi cioè io sono preoccupato perché noi dobbiamo difendere le nostre riforme anche il decreto dignità altra riforma Ministero del lavoro noi abbiamo perduto dei ministeri nei quali avevamo fatto delle riforme importantissime codice rosso Ministero della giustizia pure là cioè io sono preoccupato per questo perché noi alcune delle nostre migliori riforme le dobbiamo difendere non avendo il ministro di quei ministeri che riguardano le nostre migliori riforme e siccome il quesito riguardava due cose il super ministero della transizione ecologica è la difesa delle nostre riforme la continuità politica è permettetemi che questo è un problema che dobbiamo andare a risolvere sinceramente anziché scannarci fra di noi cioè io sono tornato a Roma in questi giorni spero di parlare con i nostri vertici per dirgli ragazzi ma com'è possibile che siano andate così le cose vogliamo per favore adesso difendere quelle riforme mettendo delle persone in quei posti questo mi sembra la cosa più più urgente da fare Luciano D'Amico scrive Dino Giarrusso sei più ingenuo di quello che credevo non è un insulto lo so che non è un insulto Luciano se tu mi dici che sono ingenuo non penso che io venga insultato io ti ricordo Luciano che l'alternativa a questo era non avere nessuno se ti sembra una cosa migliore che anziché esserci solo Brunetta, Gelmini, Carfagna magari c'era anche Previti o c'era anche Minzolini o Formigoni o Cuffaro magari era meglio al posto di Di Maio c'era Cuffaro secondo me no è meglio Di Maio o al posto di Patuanelli c'era la Bella Nova secondo me è meglio Patuanelli questo è quello che penso io magari mi sbaglio magari è meglio così che cosa volete che vi dica ragazzi cioè io credo sempre che quando si fanno delle scelte politiche bisogna assumersi nelle proprie responsabilità e ripeto se avesse votato vinto il no io avrei non avrei lasciato il movimento sinceramente io avrei lavorato per fare bene l'opposizione al governo Draghi però il governo Draghi senza di noi sarebbe stato il trionfo totale di Lega Forza Italia PD cioè con noi non è il trionfo totale questa è l'unica differenza ragazzi che poteva eravamo messi se noi abbiamo avuto dei traditori che ci hanno tradito e sono stati eletti col movimento e non sono più nel movimento e abbiamo perso i numeri alla Camera e al Senato non è che c'era cioè non è che c'è una terza soluzione ragazzi quello che vorrei spiegarvi quando non ci sono i numeri se no potevamo andare al voto potevamo tranquillamente andare al voto oppure andare all'opposizione cioè o avere un governo siccome Mattarella al voto non ci voleva andare avremmo avuto un governo Draghi con tutti gli altri con tutti i ministri loro che si gestivano i 209 miliardi del recovery fund io sinceramente siccome dei 209 miliardi del recovery fund c'è una grande parte per esempio che va all'agricoltura sono contento che la gestisce Patonelli c'è una grande parte che va alla tutela dell'ambiente sono contento che la gestisce una persona competente c'è una grande parte che va alla coesione territoriale eccetera eccetera sono più contento che ci siano Di Maio Patonelli Dadone Edincà in questo governo e Cingolani che a vedere non lo so Salvini Ministro Salvini Centinaio Brunetta Gelmini Garfagna è solo loro è solo loro questa è la differenza anche io avrei voluto un governo solo 5 stelle con Di Battista Ministro con Di Maio Ministro con Sileri Ministro con Crimi Ministro con Bonafede Ministro anche con tutti i nostri migliori ministri con Nunzia Catalfo che ripeto è una grande perdita anch'io lo avrei avuto ma non abbiamo preso il 50% delle elezioni abbiamo preso il 32% e ci hanno fatto una legge elettorale per incularci subito prima e vi ricordo che nei primi due governi Conte con dei degli alleati che non mi sono mai piaciuti nella Lega nel PD noi comunque abbiamo fatto una marea di cose buone e abbiamo portato loro a votare le nostre cose buone adesso sono preoccupato perché con questa squadra sarà più difficile portare questa squadra di governo a votare il nostro programma e sarà più difficile difendere le nostre cose soprattutto se non avremo nemmeno dei viceministri dei sottosegretari in quei ministeri dove diciamo si gioca il futuro delle nostre riforme tutto questo allora vediamo cosa dicono alcune domande avreste fatto molto di più restando all'opposizione questo dice Nicoletta Giuseppetti Nicoletta io non credo che sia così dopodiché ha scelto la maggioranza su Rousseau ripeto io ho deciso di votare sì ma se avesse vinto il no secondo me si doveva andare all'opposizione se vince il sì no non si può come dire tradire il voto popolare questo mi sembrerebbe una cosa antidemocratica è vergognosa qualcuno dice che adesso dopo i nomi è l'ora di andare all'opposizione allora caro Dino senza di noi non sarebbe nato questo governo siamo ancora in tempo per farlo cadere se tornare subito al voto dice Antonio Cartaro Valentina questo vale certo per qualsiasi governo Valentina Locci questo è il punto non abbiamo validi alleati no è vero grazie di tutto Dino ti stiamo caricando di tutti i nostri dispiaceri no ma Mariangela Rizzo io faccio le dirette perché non ho nessuna paura di confrontarmi con i miei amici con gli attivisti anche con le persone che criticano io vi invito soltanto a non litigare fra noi ma criticare una cosa insultare criticare una cosa insultare un'altra discutere una cosa buona criticare una cosa buona insultare litigare mandarsi affanculo fra di noi non credo che porti a un miglioramento delle cose questo ve lo dico con molta serenità cioè non è che siccome qualcuno manda affanculo a me o a Borra o a Danilo Doninelli o a Crimi o a Paola Taverna o a Alessandro Di Battista o a Luigi Di Maio o a Nunzia Catalfo allora siccome ci mandiamo affanculo fra di noi improvvisamente tutto diventa meraviglioso non è così se noi stiamo uniti se fossimo stati magari sempre uniti se non ci fossero state quelle uscite se fossimo stati sempre uniti forse eravamo più forti anche in queste trattative perché voi dovete pensare a quanto male ci fanno le divisioni interne quanto male ci stanno facendo quanto male ci hanno fatto secondo me molto ed è un grande problema addirittura il mio amico Andrea Rizzoli che non è un grillino ma io ci tengo a leggere il suo messaggio perché dice Dino ma che avete fatto il grande ritorno del banana caro Andrea io non credo proprio che ci sia il grande ritorno del banana c'è purtroppo la mancanza di una maggioranza parlamentare per continuare ad avere un governo a guida 5 stelle questo è quello che è successo c'è stata una votazione su Rousseau che ha deciso di provare a continuare con il governo Draghi a patto di avere quel super ministero di conservare le nostre riforme quindi di continuare politicamente su quella via ecco se questo non venisse rispettato non sarebbe giusto perché se no allora volevamo un altro quesito su Rousseau non abbiamo tre ministeri Raffaella Bluffard ma ne abbiamo quattro Dino mi dispiace per tutta la squadra ti sono vicino grazie a Sabina Carlettini allora Marco Cianni fate saltare tutto non si può vedere un governo del genere a questo punto opposizione faremmo meglio ci fanno naturalmente qualche battuta sull'alto profilo e poi su Brunetta aveva vinto il centrodestra Bravi ha vinto Renzi vi ha diviso voi avete il coltello a Pallermanica per me avete sbagliato tutto perché Antonietta Graziano dice a me avete sbagliato tutto e dice Renzi vi ha diviso perché io sono sempre stato per l'unità non mi pare di avere diviso il movimento col mio agire politico forse chi ha giocato a dividere il movimento qualche responsabilità forse ce l'ha però questo non me lo puoi additare certamente a me con tutto il rispetto Lorella Fiorentini ho votato o no ma il voto di chi ha votato sì non è stato rispettato visto che il quesito è stato forviante come sono andate le cose questa è una giusta obiezione invece Lorella Fiorentini ha ragione se non viene rispettato quello che ci chiedevano per votare sì o no beh non va bene non va bene se ci sei combatti se non ci sei perso grazie a Marcello Fiori sono d'accordo abbiamo più che perso torniamo in piazza questo governo ha la mafia dentro Falcone e Borsellino muoiono oggi nuovamente Daniele Manca spero proprio che le cose non siano così negative come dici tu non credo che un governo dove ci siamo noi possa avallare scelte contrarie a quelle di Falcone e Borsellino sinceramente Piero Trani lo sapevi che ora sarebbe stato più difficile portare avanti le vostre battaglie inutile che ti lamenti non avrete più la nostra compassione io mi chiedo davvero se questi sfoghi se scrivere queste cose aiuta a sfogarsi va benissimo però se vogliamo essere costruttivi secondo me dobbiamo rimbocarci le maniche e lavorare se pensate che scrivere di questa frustrazione su Facebook o sui social sia utile a migliorare le cose a far rendare come volevano Falcone e Borsellino per citare uno di voi sinceramente non è così dividerci ha aiutato i nostri nemici quando ho sentito il dialogo video di Marco Guzzi sono rimasto freddato ho accertato tutto ciò che ha detto credo che non sono stato il solo a sentire Vito Di Terlizzi se poi mi mandi per favore il link a questo dialogo mi fa piacere grazie Raffaele Gennaro che dice buonasera da Dino voglio bene al Movimento 5 Stelle voglio ancora lottare spero che lo vogliano anche gli altri ecco lo spero anch'io ragazzi spero che questo questo malcontento e questa rabbia si trasformi in energia per continuare a lottare se questo malcontento e questa rabbia significa vaffanculo a tutti vaffanculo fra di noi possiamo chiudere la baracca lasceremo via libera agli altri io spero che questo non accada spero proprio che questo non accada Antonio Zambito mi dispiace Dino ma abbiamo perso su tutti i fronti vi supplico salvatevi prima della distruzione totale io spero proprio che non ci sia la distruzione totale Antonio caro Antonio Anna Luisa Urzi che è una grande attivista non so se alla fine aveva votato sì o no la scrive il dopo Conte è peggio di come immaginavo beh queste premesse sì sinceramente Anna Luisa questa lista mi ha raggelato la schiena non lo posso negare allora messaggio che voglio leggere di Paolo Talarico che scrive tenete alle poltrone non siete di parola forza di Battista come potete stare al governo con questi allora Paolo Talarico prima di tutto io non ho alcuna la mia poltrona non ha alcun tipo di differenza se c'è il governo se si va al voto se siamo all'opposizione se stiamo in maggioranza perché io sono parlamentare europeo il Parlamento europeo dura cinque anni non c'è lo scioglimento anticipato del Parlamento europeo e la mia poltrona francamente io non ho mai lavorato per la poltrona ma anche volendo immaginare da parte mia un attaccamento alla poltrona sappi che stai sbagliando obiettivo perché non si parlava di Parlamento europeo ma si parlava di governo italiano e quello che succede nel governo italiano non ha nulla a che fare con il Parlamento europeo primo secondo non siete di parola perché quando è che io non avrei mantenuto la mia parola mi piacerebbe saperlo terzo forza di Battista come potete stare al governo con questi ora io ho tutto grande rispetto per Alessandro di Battista grande l'ho detto ieri abbiamo visto in diretta il suo video io sono molto dispiaciuto della sua scelta allo stesso tempo penso che quando si è in difficoltà bisogna stare dentro una barca che affonda non abbandonarla che quando c'è un'elezione si può votare sì o no si accetta il risultato non si va via se un risultato non ci piace lo dico con rispetto stima ammirazione affetto e vicinanza politica nei confronti di Alessandro di Battista tutte le cose più belle che posso dire di Di Battista che è stato un grande deputato le confermo al 100% non mi piace e lo devo dire con molta onestà il fatto invece che il malcontento di Di Battista che condivido in molte cose perché molte delle cose che pensa Alessandro le penso anch'io sinceramente ma ho reagito in maniera diversa magari sbaglio io però per me la reazione a un malcontento deve essere una reazione costruttiva non distruttiva non me ne vado ma resto e lavoro ancora più di prima per cambiare le cose che non mi piacciono del movimento però questa è una mia opinione magari sbaglio io sbaglio io però per me bisogna fare del bene alla forza politica dentro cui si sta se giochiamo a dividerci facciamo il gioco di Renzi e non si fa più del bene questo è quello che penso e forse siamo più deboli anche perché ci siamo divisi perché abbiamo tollerato che la gente se ne andasse anziché dire chi se ne va è un pezzo di merda se si tiene la poltrona abbiamo detto lo capisco non lo capisco se lo capisco lo capisco se si rimette dalla poltrona perché se noi avessimo se tutti si fossero dimessi se tutti i grillini che hanno lasciato il movimento ma si sono tenuti la poltrona si fossero dimessi noi avevamo ancora il governo Conte perché i numeri per il governo Conte stante ai grillini che erano stati eletti c'erano è chiaro? sono stati i traditori che ci hanno fatto mancare i numeri lo sapete caro Paolo Talaricola sai questa cosa? allora se bisognava incazzarsi con qualcuno e dirlo chiaramente forse bisognava incazzarsi e dire chiaramente che quelli erano dei traditori ho sbaglio perché senza quei traditori Conte non aveva problemi di numeri abbiamo perso 60 circa parlamentari 4 euro parlamentari su 14 e forse tutta questa severità andava messa nei confronti dei traditori che avevano firmato una carta dove dicevano se lascio il movimento lascio la poltrona hanno lasciato il movimento ma non hanno lasciato la poltrona e lo stipendio e tutta questa rabbia l'avrei voluta vedere nei confronti di queste persone che invece qualcuno ha pure detto hanno fatto bene hanno ragione loro e allora dove cazzo dobbiamo andare? scusate scusate eh? eh che cazzo scusate lo sfogo però c'è un limite anche a tutto perché bisogna sempre battere le mani a chi ci ha a chi ci ha portato in questa posizione no ci ha portato in questa posizione quelli che hanno lasciato il movimento fatevi i conti col pallottoliere noi i numeri per tenere il governo Conte senza Renzi ce li avremmo avuti se non avessimo avuto traditori lo sapete questo? mi auguro di sì perché c'è chi gli ha detto bravo a chi ha tradito ve lo vorrei ricordare e invece se tutti ci fossimo incazzati come ci stiamo incazzando oggi per la delusione per questa lista di ministri noi non ce l'avevamo questa lista di ministri perché non ce l'avevamo manco draghi perché bastavano i nostri i nostri voti bastavano per reggere Conte lo sapete questo fatevi i conti col pallottoliere anziché ora distruggere quello poco che abbiamo no qualcuno dice perché non avete fatto la legge contro il territorio quella legge è una legge costituzionale per fare una legge costituzionale perché in Italia non esiste il vincolo di mandato l'ho detto 70 volte per fare una legge costituzionale bisogna avere dei numeri di maggioranza alta come quella per il taglio dei parlamentari che siamo riusciti miracolosamente a fare anche se eravamo alleati con personaggi inaccettabili li abbiamo fatto votare la nostra riforma quindi la legge non è il problema della legge il problema è che tutti noi avremmo dovuto dire a tutti questi senza sconti per gli amici che erano dei gran traditori non che se lo fa uno che non è della mia corrente è una merda e se lo fa uno che è della mia corrente è un amico però veraccio va bene lo stesso oppure mi sto zitto perché queste cose non ci hanno fatto bene alla fine non facciamo i verginelli di i verginelli non vorrei come dire esagerare con le volgarità non facciamo i verginelli però che cazzo che è successo ma vaffanculo va sì ecco c'è chi ci ha messo in queste condizioni e chi ci ha indebolito e ci hanno indebolito quelli che se ne sono andati via va bene chiudo parentesi perché se no poi mi faccio il sangue amaro caro Carmine Raimondi tu lo sai di chi sto parlando che Carmine Raimondi è un attivista siciliano io spero che saremo tutti uniti oggi più che mai e invece purtroppo e invece purtroppo anche oggi ci sono persone che pensano litigando al nostro interno forse di lucrare un po' di visibilità di dire ci avevo ragione avete visto questo è va bene ragazzi io direi che per stasera basta così Paragone è uno di quelli grillino traditore senatore un voto in meno abbiamo avuto per uno che è stato eletto con i nostri voti e ci insulta dalla mattina alla sera non è il più grillino di tutti Paragone è il meno grillino di tutti Paragone se vogliamo dire le cose come stanno e se non avessimo avuto traditori ripeto non avremmo avuto il governo Draghi perché saremmo stati abbastanza forti da supportare Conte è chiaro? va bene è una grande delusione questi nomi però anche qui prima di salutarci continuiamo a lavorare affinché la nostra forza anche sui social cerchiamo di farci vedere uniti vedete come ci sguazzano i giornali si dividono la base l'implosione dei 5 stelle se ne va di Battista e quindi è tutto distrutto è tutto finito questo vogliamo ragazzi se vogliamo questo è facilissimo gliela diamo vinta a Renzi togliamo pure i nostri quattro ministri gli lasciamo tutti i ministri a loro i soldi dei recovery fund se li gestiscono loro tolgono il reddito di cittadinanza tolgono lo spazzacorrotti tolgono la riforma della prescrizione e siete tutti contenti così è un modo distruttivo di fare politica mi auguro che proprio da domani o forse da stasera ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo per migliorare le cose perché purtroppo la politica si migliora concretamente la vita dei cittadini si migliora concretamente solo se miglioriamo le cose va bene a domani